C'è un'attività di abusi, le violenze e le vessazioni nei confronti delle donne? Purtroppo gli abusi, le violenze e le vessazioni nei confronti delle donne non diminuiscono e avvengono purtroppo all'interno, per la maggioranza dei casi, all'interno della famiglia. Quindi noi come istituzioni dobbiamo impegnarci innanzitutto a dare più fondi ai centri antiviolenza che stanno facendo su un territorio un lavoro straordinario per raccogliere le denunce e per stare anche a fianco delle vittime delle violenze e degli abusi. Dall'altro lato però dobbiamo anche fare un lavoro importante di educazione culturale a partire dalle scuole e quindi il nostro impegno deve essere quello di educare le giovani generazioni al rispetto dei ruoli, al rispetto delle diversità per affermare una vera cultura di genere. Grazie per la visione!